La Toscana punta tutto sulla lettura e lo fa anche al Pisa Book Festival, in programma al Palazzo dei Congressi di Pisa il 9, 10 e 11 novembre. Il festival, presentato a Firenze nella sede della Presidenza della Regione Toscana, riunisce 160 editori indipendenti e rientra tra le tappe del lungo percorso promosso dalla Regione Toscana nell'ambito del Patto per la Lettura. Obiettivo promuovere il gusto di leggere soprattutto tra i giovani, insieme a tutti i soggetti, biblioteche, librerie ed editori attivi sul territorio regionale. Il Pisa Book Festival è una di queste tappe perché noi non abbiamo voluto dimenticare gli appuntamenti anche fieristici e diciamo pseudo commerciali che nel nostro territorio sono presenti a partire dall'Elba Book Festival di luglio scorso a Firenze Libro Aperto che si è chiuso domenica scorsa e il Pisa Book Festival che ha una tradizione molto più lontana rispetto a questi altri due e che è un appuntamento ormai noto e importante per tutta la Regione. Il Pisa Book Festival, promosso e sostenuto da Regione Toscana, Comune di Pisa e Fondazione Pisa, prevede anche eventi esterni alla sede della Fiera con reading di poesia in città, protagonisti come sempre, gli editori indipendenti agli stand e poi, come ogni anno, ci sarà un paese ospite. Quest'anno è la Spagna, quindi grande paese, grande letteratura e grande anche visibilità per tutti i libri spagnoli. Abbiamo uno stand che noi offriamo al paese ospite e quindi allo stand Spagna si troveranno tutti i libri in spagnolo, tutte le uscite dell'ultimo anno e soprattutto quelli che hanno vinto premi. Un altro passo avanti nella promozione della lettura in Toscana. Grazie a tutti.